Buongiorno a tutti! Anche oggi impariamo 5 espressioni nuove, quindi prendete carta e penna oppure aprite il vostro computer per prendere appunti. Siete pronti? 3 2 1 iniziamo! Prima espressione, un tipo alla mano, una tipa alla mano, una persona alla mano. Per esempio, mio papà è un tipo alla mano, non si arrabbia mai. Seconda espressione, fare un salto a. Per esempio, faccio un salto al supermercato, ti serve qualcosa? Faccio un salto al supermercato, ti serve qualcosa? faccio un salto al supermercato, ti serve qualcosa? Guance arrossate, guance arrossate. Alle guance arrossate. Sono a posto, grazie. Sono a posto, grazie. Per esempio, vuoi ancora un po' di caffè? Ah no, sono a posto, grazie. Riaddormentarsi, riaddormentarsi. Per esempio, stamattina mi sono svegliata alle 5, ma poi mi sono riaddormentata. Stamattina mi sono svegliata alle 5, ma poi mi sono riaddormentata. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Come al solito, siamo stati velocissimi. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace e, mi raccomando, scriveteci nei commenti se avete imparato qualcosa di nuovo. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, matanè! Ciao a tutti.